fratelli e ragioni amici di facebook e instagram buonasera a tutti i ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale buon venerdì buon inizio di weekend weekend è tornato a caldo adesso da qui fino ai giorni a seguire veramente temperatura sale vedi canotta però canotta dell'inter ai ragazzi sempre sempre con i colori con i colori addosso ma fa un galdo cioè ventilatore pundato fisso oggi a proposito ventilatore ma questa valora con questa la racconto al volo a capo di chezzo così l'altra sera con collegamento con top calcio no mentre parlavo a un certo punto arriva un messaggio e era la prima volta che mi compariva un messaggio da dal chat di skype ed era tele lombardia che mi scriveva e scriveva c'è troppa aria sulla testa se voi andate a vedere io il green screen no ho pensato io mi vedo bene magari che cazzo ne so sto ventilatore sta muovendo il green screen in qualche modo e fa fa un certo sopra la mia testa fa un certo coso non lo so io no un gioco di luci strano se io per non saperne leggerne scrivere spengo sto cazzo di ventilatore no e non mi scrive più nessuno a fine a fine no a fine durante la pubblicità quelli mi dicono diego c'è troppa aria sulla testa io ho detto senti ma io lo spendo che cazzo devo fare no c'è troppo spazio c'è la parla come mangi disgraziato maledetto chi cazzo di conosci termini tecnici allora ho dovuto abbassare un po la webcam e ho riacceso sto cazzo di cosa che faceva caldo faceva l'altra sera perché stava iniziando a diluviare avevo chiuso tutto per il rumore si crepava dal caldo col green screen dietro con sto cazzo di cosa spendo ve lo dico se vedete dopo dopo lo stacco pubblicitario mi si vede un po più alto è quella è l'aria sulla testa che avevo questa questa era una chicca perché poi vi succedono pure queste cose succedono detto questo ragazzi detto questo ho impostato una live dovrebbe essere stasera le 21 e 30 però prendiamola con le pinze vediamo se riusciamo comunque o stasera massimo domani sera volevo fare una live serale dove parliamo un po di tutto parliamo è uscito il calendario quindi andremo ad analizzare il calendario lo guardiamo insieme ci facciamo un'idea poi insomma le notizie di calciomercato soprattutto riguardanti l'inter si si moltiplicano quindi è capace che adesso c'è una situazione stasera dalle 22 ce n'è un'altra domani ancora tutt'altra situazione quindi vediamo vediamo se riusciamo a fare una live nel frattempo è vero che sono le ore di onana ragazzi sapete come la penso io suonana però non è che posso farci molto insomma se dovesse arrivare io spero che non arrivano a quella cifra ma ormai ci sono vicini vicini insomma e quindi ma detto questo ne parleremo comunque in live il numero 37 l'ex numero 37 ha parlato ha parlato ha firmato col pari è tutto allegro e sorridente sta da dio sta benissimo gli ultimi mesi li ha vissuti un po così un po un po non bene insomma no ci sono due cose ci sono che rendono non lo definisco neanche uomo perché dopo tutto quello che ho sentito perché poi c'è gente capito che pensa c'è gente che difende solo il giocatore io invece mi sono sempre messo a metà perché secondo me non 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 è che rinnego ciò che ho detto c'è lo sbaglio a priori a prescindere proprio dalla società che se vola rinnovare lo rinnovava prima però dopo lui ci ha messo tanto del suo tanto e le dichiarazioni di ieri sono l'emblema perché se ti chiamare paris saint germain ci metti un secondo a decidere ci ha messo un secondo quanto cazzo abbiamo aspettato una risposta lui ci ha messo un secondo a decidere ma quando cazzo è stato sto secondo che poi vedi il milan il nome milan si abbina proprio bene quanto è durato sul secondo quando era sul secondo è interessante poi soprattutto il pubblico fantastico del paris saint germain che pubblico minchia hanno una storia tra la squadra e la tifoseria che c'era una storia della madonna che pubblico che come sono calienti no noi ha capito che ai tempi di tour già si facevano a 40 mila persone si faceva il record in tutta italia di persone presenti allo stadio 40 mila conto e adesso ci vorrebbero due san siro per riempirlo che pubblico che pubblico fantastico quindi questo avvalora ancora di più è capito il mio schifo che dico da mesi da mesi perché fino a un certo punto poi quando si è capita bene la situazione ripeto ci sono le colpe anche della della dirigenza perché se volevi tenerlo lo tenevi prima e non è neanche la cosa quando ha cambiato quando si è tolto dalle palle il vecchio procuratore è andato lì ha fatto quello che doveva fare ma dopo è passato tempo e col nuovo procuratore e ne ha combinate più di bertoldo nella stessa partita uno parlava e l'altro si faceva espellere e da lì basta è finito tutto di che cazzo stiamo parlando quindi si è andato lì per essere uno dei tanti e te lo auguro perché poi tutti vogliono tornare qui guarda caso tutti vogliono tornare quindi non do ancora più vedi come come tradirsi ci ha messo un secondo ci ha messo ci ha messo un secondo ripeto non mi affeziono più a sti cazzo di giocatori dopo l'inculata era tanto che mi affezionavo con lucaco mi era affezionato tu guarda come se n'è andato e e ancora e ripeto ancora per per tornare nel cuore ne deve ne deve passare di acqua sotto i ponti ma questi qua o quell'altro ha detto bene ausilio non è che tutti gli anni gli ha fatti belli signor brozovic è quello che mette il circo quello che ha fatto tutte ste pagliacciate alla fine perché io non dimentico i tre anni a non fare un cazzo a fare il pistola poi ogni tanto la metteva all'incrocio faceva così faceva con i capelli alla righiera ed era il più fischiato ed era quello che sfidava il pubblico non dimentico che per due volte se ne stava andando e quando è andato a nanchino lui e signor perisic quell'altro che adesso è finito l'idilio voleva andare a giocare in premier è finita è anche lui vorrebbe tornare no non ce n'è di cazzi ve ne siete voluti andare lo stesso brozovic ma di che cazzo stiamo parlando le tarantelle le cose quest'anno hai fatto mille tarantelle è fatto io dico da dopo il rinnovo è ma l'anno scorso è stato il miglior centrocampio non me ne chiava un cazzo non me ne chiava non me ne chiava un cazzo a me sti comportamenti mi fanno cagare i comportamenti all'interno del campo il continuo sbracciare basta ci siamo tolti dei coglia che vedi che poi ci ha definito un circo ma quello prende 30 zucca all'anno perché aveva giocato in questo circo quindi basta affezionarsi solo la maglia solo il sacro logo vaffanculo che tanto rimaniamo solo noi tifosi sempre e solo noi quelli vanno a guadagnare 30 zucche e capito quindi questo è il mio pensiero su questa gente indegna perché sono sono indegni sono cioè hanno rovinato tutto sul finire lo stesso brozovic cioè che senso aveva fare tutte quelle tarantelle quelle storie quel cinema il circo queste pagliacciate qua e saluto e non mi piace ma che cazzo ha fatto nell'ultimo anno cosa ha fatto nell'ultimo anno ci ha preso pure per il culo lui come altri che poi sono andati al mondiale hanno fatto il mondiale della madonna hanno fatto invece chi non tirava dietro la gamba è si è fatto il mondiale in panchina vincendolo tra l'altro lautaro quindi vaffanculo è vaffanculo di cuore a chi se ne va dall'inter ciao belli ciao basta ragazzi questo è il mio video mio video sfogo non è un saluto è un mio video sfogo perché poi quando sento anche capito è come felice come allegro grazie al cazzo vedrai te ne accorgerai come se ne sono accorti gli altri cazzi loro a noi neanche ci pensano noi ragazzi quelli quello va a dire che il pubblico del pari san germain è un pubblico caloro il pubblico del boca junior è caliente uguale ma vaffanculo va condivisione dei video iscrizione al canale sempre solo forza inter sempre solo la maglia e la società al momento sta lavorando bene con tutto che siamo nelle condizioni che siamo stiamo lavorando bene vediamo cosa succede di onana ragazzi che cazzo vi devo dire l'hai preso a zero e anche qui anche qui tanti che fanno i fenomeni e tanti che scrivo io mi ricordo l'anno scorso ma eravamo un terzo che lo difendevamo sto onana ma che schifo è arrivato a zero se è arrivato a zero ci sarà un motivo no dio io mi ricordo ancora tutto mi ricordo ok suonana e io dico ma che cazzo dite o ma fatelo giocare sto ragazzo guardiamo io ho visto e le uscite fare le fanno tutti le papere tutti i portieri fanno le papere tutti gli attaccanti fanno le papere dicevo e adesso tutta la disperazione anche a me dispiace sono il primo a dirlo dispiace soprattutto per la sinergia che si è creata in quella difesa lì ma non è che un buon portiere non lo trovi ce n'è di buoni portieri con altre caratteristiche quindi ma se dovesse arrivare sta minchia di offerta così alta che cosa deve fare qualsiasi proprietà lo farebbe l'ha fatto il mila con capitano futuro con tonali di che cazzo stiamo parlando e mila non è messo male come noi raga sveglia sveglia e non rompiamo il cazzo la proprietà a fine a fine calciomercato diremo la nostra abbiamo fatto cagare ci è piaciuto via ora parla il campo ma quello deve essere non una rottura di coglioni e non va mai bene prendi frattesi no cazzo dovevamo prendere samargi prendi qua no dovevamo prendere quello e che rottura di cugliuna ciao ragazzi sempre forza inter